La gestione della fusione delle aziende del trasporto pubblico abruzzese che ha dato vita a tua SPA è stata un fallimento, a dichiararlo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari che durante una conferenza stampa ha presentato i dati di un dossier sul bilancio dei trasporti abruzzesi. La prima cosa che salta all'occhio è che sono stati tagliati oltre 5 milioni di chilometri percorsi e potete immaginare la ricaduta sull'erogazione del servizio. A fronte di questo taglio imponente sono state aumentate le tariffe del 5%. Non solo, abbiamo registrato un taglio di personale ma soprattutto negli operatori di esercizio e il personale viaggiante a fronte di un aumento dei quadri dei dirigenti e del personale amministrativo che non servirebbe che già in esubero. Abbiamo notato altresì che c'è un forte indebitamento di oltre 20 milioni di euro di debiti e per cercare di tamponare e far fronte a questo debito si fa ulteriore indebitamento. Infatti è di febbraio 2018 una delibera di TUA con la quale accedono a un finanziamento di 15 milioni di euro, quindi indebitamento su indebitamento. Poi abbiamo scoperto un'altra chicca molto interessante che i depositi, la liquidità in depositi bancari passa da oltre 6 milioni di euro ad appena 2 milioni di euro, quindi sono stati prelevati oltre 4 milioni di euro ed è facile anche per un bambino della quinta elementare far quadrare i conti. Tutto questo, questa situazione disastrata a fronte di cosa? Di aumento di costi. Attenzione, aumentano i costi per il carburante, per il metano, per i buoni pasto, per la mensa, aumentano costi per la pulizia, per la vigilanza, quindi una gestione completamente fallimentare. La seconda voce di bilancio dopo la sanità e trasporto pubblico locale oggi abbiamo cristallizzato una situazione completamente fallimentare che deve far andare a casa di corsa questa amministrazione per un nuovo governo regionale a guida Movimento 5 Stelle.